Bene, buongiorno a tutti, io sono Alfredo Pini di Ispra e ho l'ingrato compito, scherzo ovviamente, anzi ringrazio Nadia per la fiducia che mi ha accordato di moderare i lavori di questa giornata. Penso che la... adesso credo che facciamo entrare per il periodo in cui gradite seguire gli interventi. No, no, dicevo la rassa e qualcuno deve riportare. No, no, credo ci sia il palco. Dicevo, abbiamo davanti alcune ore di lavoro intenso ma appassionante. L'efficacia e la chiarezza dei due saluti istituzionali ci consentono di entrare direttamente nei temi avendo perfettamente inquadrato il lavoro che facciamo. Io ringrazio solo la collega Nadia Mucci a questo per dare la parola per il primo intervento, per la prima relazione. Nadia è la responsabile nel nostro area per la genetica della conservazione perché è un'occasione veramente unica per fare il moderatore in un ambito, in un contesto nel quale io non sono esperto, del quale io non sono esperto e quindi mi perdonerete nel seguito della giornata qualche possibile o eventuale imprecisione. Ma è veramente un'occasione bellissima perché il contesto nel quale ci muoviamo e che ci è stato illustrato così perfettamente nelle relazioni iniziali è estremamente nobile. Lo è dal punto di vista etico-morale, lo è dal punto di vista sociale perché è un ambito nel quale si porta un tassello del contrasto all'illegalità e della conseguente promozione della legalità che è stato per lungo tempo anche lo stesso contesto nel quale io ho svolto la mia attività professionale nell'istituto e allo stesso tempo si promuove la conoscenza, la ricchezza e la cultura scientifica e dunque è veramente un'occasione unica. Nadia, a cui chiedo di iniziare la prima relazione assieme a Chiara Mengoni che è un commissario della commissione scientifica CITES, ci introdurranno ai lavori della giornata con una panoramica di questo ventennio che oggi celebriamo. A questo punto arriva il ruolo in grado del moderatore che deve garantire il rispetto dei tempi. Abbiamo qualche minuto. Nadia, 20 minuti di tempo per la reazione, poi cerchiamo di recuperare durante la giornata. Grazie, grazie mille. Assolutamente. Buongiorno a tutti. Innanzitutto devo dire che è un piacere, un onore e francamente anche un'emozione dare il via ai lavori della giornata, con gli interventi della giornata. La convenzione di Washington è importante ma è importante anche questa platea. Come avete sentito io rappresento l'area per la genetica della conservazione. ci troviamo a Dozzano e da sempre ci occupiamo dello studio delle popolazioni selvatiche con un approccio di tipo biomolecolare. Quindi utilizziamo il DNA per ottenere le informazioni utili che poi possono essere appunto reutilizzate nei piani di gestione e conservazione della fauna selvatica. In questi 20 anni abbiamo dato il nostro supporto alla corretta applicazione della convenzione di Washington attraverso le analisi genetiche, quindi per la verifica delle relazioni parentali degli animali, degli esemplari C, testi, allegato a, immessi sul commercio. Relazioni parentali che ci permettono di verificare se questi animali derivino da flussi leciti o invece non derivino da prelievi leciti e quindi anno dopo prelievo dopo prelievo la banca dati, la biobanca di materiale biologico ad Ispra si è arricchita fino ad arrivare a quasi 10.000 campioni biologici. E campioni biologici che poi possono essere utilizzati nell'ambito della certificazione, quindi per continuare questa analisi come confronto, possono uno strumento molto utile anche per la ricerca su queste specie che ovviamente hanno dei grossi problemi di rischio di estensione, ma anche a fine forense. E quest'anno proprio andando a cercare delle informazioni per i primissimi campioni che costituiscono la banca dati Ispra, abbiamo recuperato i vecchi verbali e ci siamo trovati di fronte a questo frontespizio. E quindi già gli storici potrebbero chiamarlo fra documento, fonte iconografica, che comunque designa il fatto che dal 1999 queste attività sono cominciate in maniera ufficiale. E' ovvio che è un lasso di tempo estremamente importante e a parte tutte le considerazioni sul tempo che passa, abbiamo l'immediato a valutare quello che, tutto il tempo che è passato, come eravamo, cosa è stato fatto, come siamo cresciuti, assieme a chi siamo cresciuti. E la prima cosa che ci è venuta in mente è proprio un'idea di sintesi, che cosa ha rappresentato, utilizzando delle parole chiave, questa convenzione di Washington per noi. E la prima cosa, attività, perché comunque di attività ne sono state svolte tante, parlando proprio anche molto banalmente in termini di analisi genetiche. Però non ci siamo voluti arenare alla semplice analisi genetica. Il percorso è stato un percorso di miglioramento, per cercare di ottimizzare i protocolli, per cercare di aumentare, di crescere anche da un punto di vista scientifico. Ho segnato come terzo punto le difficoltà, perché in vent'anni sarebbe sciocco non ammettere di aver avuto delle difficoltà, però ci piace vederla in chiave positiva. Cioè la difficoltà è quel qualcosa che magari non vorremmo incontrare, però delle volte è quel Deus Ex Machina che ci permette di fare quello scalino, che magari non avremmo fatto altrimenti. E quindi alla fine ha avuto, anche le difficoltà per noi hanno avuto una chiave estremamente positiva. E soprattutto se all'ultimo punto si parla di sinergia collaborazione. E guardate, l'ultimo punto è messo come nel vecchio gioco del nascondino. L'ultimo aveva modo di cambiare tutte le sorti. E questo per noi è la sinergia e la collaborazione. Quello che ha modo di farci superare le difficoltà, di farci lavorare insieme, perché comunque ricerche e sviluppo non possono arrivare da una sola persona, ma devono arrivare attraverso la collaborazione di più parti. E questo poi alla fine per procedere con un'attività migliore, con un'attività migliorata, quindi per progredire tutti insieme. Però parlando di questi vent'anni abbiamo voluto vedere quello che eravamo, ma soprattutto per vedere quello che siamo diventati. E devo dire che a Dozzano abbiamo mantenuto tutte le vecchie apparecchiature, perché anche quelle fanno la storia. E quindi stiamo cercando di creare anche un'area, una sorta di museo, per non perdere quelle che sono le vecchie cose. E in questa foto voi vedete praticamente quelle che erano le biotecnologie, possiamo definirle così, per fare un'analisi genetica vent'anni fa. Sono esattamente quelle. E quindi si usavano solamente i principi base, i principi chimici del DNA. Al fondo si vede una lastra fotografica, perché praticamente si usava la luminescenza per rilevare il DNA. E il nostro massimo computazionale era l'utilizzo di una matita e di un blocco note, su cui si riportavano le cose. E devo dire che non ovviamente dal giorno alla notte, ma in vent'anni, grazie alle opportunità che ci sono state date, in primis dal Ministero dell'Ambiente, ma anche grazie a tutte le collaborazioni che abbiamo avuto. E ovviamente non posso fare a meno di citare quella con i carabinieri, ma anche la collaborazione con enti università, ma in questo momento anche la nostra struttura è una struttura scientificamente valida, quindi con apparecchiature complesse per lo studio del DNA, e con una scelta verso l'automazione. L'automazione non perché non vogliamo le persone, perché abbiamo assolutamente bisogno di lavorare con le persone, ma perché l'automazione cerca di dare un aumento ai processi e soprattutto limita quelli che sono gli errori manuali, aumenta l'affidabilità, quindi migliora sicuramente il processo. E li migliora sempre per mettere un'immagine a confronto, un miglioramento che noi abbiamo riscontrato, mettendo a confronto le vecchie tecniche con le nuove, un miglioramento che è stato un miglioramento tecnologico, ma anche un miglioramento per la nostra attività, quindi passando da queste lastre fotografiche in cui era necessario l'interpretazione ad occhio delle bande per capire i rapporti di parentela, ha sistemi automatizzati, informatizzati, che permettono delle diagnosi più veloci, anche se comunque una conferma di una relazione di parentela non è sempre facile. Però diciamo che il livello qualitativo sia delle attività, sia di chi lavora in queste attività, è decisamente migliorato e non avremmo potuto fare altrimenti. Perché nel corso degli anni abbiamo visto una crescita della richiesta di certificazione, quindi un aumento delle richieste delle verifiche parentali. Lì, diciamo, nella diapositiva vedete i numeri, quindi si parte da poche centinaia di campioni nel 1999 e si arriva a diverse, quasi un migliaio di campioni l'anno. In realtà quest'anno è un anno anche parziale, quindi potremmo uscire dal grafico. Il fatto di avere una banca dati non è solo per dire quanti animali sono stati analizzati, quanti esemplari, quante specie. Dà un'idea anche del trend e della necessità di maggiore protezione per le specie. Nel 2017 c'è stato il picco sui pappagalli per l'entrata, per il passaggio dall'allegato B all'allegato A del cinerino. Nel 2009 c'è un picco sulle testugini, quindi l'entrata delle testugini. Nel prossimo anno probabilmente con il giochelone avremo un ulteriore tipo di analisi. Ma quello che abbiamo registrato noi è anche una scelta, un costume diverso della società, perché comunque parliamo sempre di specie che sono commercializzate, ovviamente da un punto di vista legale, quindi la verifica del fatto che non siano stati presi in natura. Però questo ci porta a vedere che nel 1999, quando siamo partiti, la certificazione, quindi la verifica di parentela, era limitata ai pappagalli e ai rapaci, mentre nel corso del tempo molte altre specie sono state oggetto di certificazione. Ora, quando parliamo di rapporti di parentela, di richieste di certificazione, parliamo comunque di protocolli attraverso i quali, da un punto di vista scientifico, si riescono ad accertare queste relazioni di parentela. E quindi considerando che ogni specie, per un'analisi di verifica di parentela, ha bisogno di uno sviluppo scientifico di un determinato protocollo di analisi, voi capite nel corso del tempo non solo quante analisi sono state fatte, ma quanti protocolli specifici sono stati sviluppati per l'analisi di tutte queste specie, sempre a fine forense. Ed è per questo che, di fronte a un'attività che chiamiamo un'attività di certificazione, un'attività di analisi, abbiamo svolto sempre un'attività parallela di sviluppo di protocolli di ricerca, perché è la ricerca che è alla base di queste attività, dell'affidabilità, poi di queste attività e di queste tecniche. E quindi abbiamo cercato di ottimizzare dei protocolli per l'analisi forense. Comunque stiamo parlando sempre di analisi che possono avere delle ripercussioni legali, perché comunque nel momento in cui venga accertato un illecito, devono essere analisi che hanno un elevato grado di affidabilità e quindi abbiamo sviluppato un protocollo di ricerca proprio per ottimizzare, diversi protocolli di ricerca per ottimizzare questo tipo di analisi. E d'altra parte non ci siamo fatto carico solo delle problematiche nostre interne, ma anche delle problematiche che abbiamo riscontrato sull'esterno. Per esempio, nel campionamento di materiale biologico di rettili ci siamo preoccupati anche del benessere del campionamento e quindi il passaggio da materiale biologico come il sangue, quindi che poteva avere delle problematiche nel prelievo proprio per lo stesso animale, allo suo buccale e successivamente allo suo buccloacale, proprio per evitare di far male all'animale. Quindi, come dicevamo prima, la sinergia perché si lavora insieme su delle problematiche e si affrontano tutte le problematiche che stanno, che riguardano un determinato argomento. E l'altra cosa è che comunque la biobanca è molto importante perché esiste materiale per moltissime specie e questo materiale ovviamente può essere informativo, può essere risolutivo, anche se non direttamente coinvolto con la conservazione e l'applicazione della Convenzione di Washington. Per esempio, ci siamo resi conto che molte specie presentavano un monomorfismo sessuale, il che crea dei problemi per esempio nei progetti di reintroduzione oppure per la semplice detenzione. e quindi ci siamo preoccupati di avere un metodo immediato anche su base colorimetrica proprio per la determinazione del sesso in oltre 60 specie CITES. E l'altra cosa ovviamente avendo tanto materiale sviluppando molti protocolli poi ne parleramo in maniera molto più estesa dal mio collega ci siamo occupati anche dell'attività forense quindi utilizzo dei marcatori proprio laddove si potevano ipotizzare degli illeciti e per esempio questo è un caso di furto ma poi ne vedrete diversi altri casi risolti proprio con l'analisi genetica. Però come dicevamo prima ci siamo preoccupati anche del fatto che queste nostre conoscenze venessero trasmesse non solo a quelli che lavorano nel settore non solo all'università ma anche ai più giovani e quindi in collaborazione con i carabinieri abbiamo attuato questo progetto di alternanza scuola-lavoro che ha coinvolto i ragazzi gli ha fatto vedere un mondo che magari non conoscevano sia per le problematiche sia anche per l'utilizzo del laboratorio e da questa esperienza è nato un manuale operativo quindi frutto di questa attività frutto di un'idea che proprio in primi si era nata in un momento di incontro di aggiornamento con i carabinieri per una corretta applicazione quindi per favorire le analisi genetiche per ridurre gli stress sugli animali e d'altra parte ci siamo sempre confrontati come dicevamo la collaborazione e la sinergia al primo posto quindi siamo presenti al tavolo scientifico della commissione scientifica CITES siamo presenti su diversi tavoli proprio per la risoluzione perché pensiamo che la risoluzione di una problematica non vada affrontata singolarmente ma vada affrontata in sinergia con tutti quelli che sono gli attori di una determinata problematica e anche da questo sono nati diversi progetti condivisi e devo dire che in tutta questa presentazione è sempre un abbiamo fatto abbiamo fatto abbiamo fatto e qui alla fine ci tengo a dire che abbiamo fatto non è ISPRA abbiamo fatto è I tutti insieme abbiamo fatto quindi nuovamente i ringraziamenti al ministero per il supporto per l'opportunità che ci dà nello sviluppare queste nel seguire nello sviluppare queste attività ovviamente in un ringraziamento alla collaborazione quotidiana con la collaborazione dei carabinieri perché quotidianamente lavoriamo braccio a braccio ci supportiamo in continuazione e ovviamente a tutti gli altri colleghi che partecipano e che sono che lavorano in maniera sinergica con noi e devo dire che in questo momento segniamo i 20 anni mettiamo una punta sui 20 anni però ecco noi lo consideriamo punto di arrivo ma soprattutto lo consideriamo un punto di partenza per quelli che saranno i prossimi 20 anni di attività Zano ci vedete lì siamo pronti per ricominciare per i prossimi grazie dell'attenzione grazie grazie